L'indice della produzione industriale del mese di aprile, le previsioni di crescita per il prossimo biennio, le stime dell'indice IPCA, netto dei beni energetici importati per i prossimi quattro anni a partire dal 2022. Sono questi numeri che Istat ha pubblicato nella settimana e sono numeri rassicuranti almeno dal punto di vista della situazione generale dell'economia, nel senso che ci dicono che il rischio recessione per questa fase dell'anno i dati congiunturali lo scongiurano. Le previsioni di crescita per l'anno sono al 2,8%, appena migliori rispetto al PIL acquisito che è 2,6% e per l'anno prossimo c'è una stima dell'1,9%. La produzione industriale dicevamo di aprile ci consegna un dato che per il terzo mese consecutivo è positivo, più 1,6%, tra febbraio e aprile la crescita è del 2% rispetto al trimestre precedente e tutti i settori sono in crescita tranne la metallurgia, le produzioni chimiche e i mezzi di trasporto. Dunque è un'economia che sta tenendo e che se continuasse a questo passo arriverebbe alla fine dell'anno con un segno positivo di oltre due punti percentuali pur tenendo conto dell'acquisito dell'anno scorso. Infine l'indice di inflazione IPCA, 4,7% per l'anno in corso, è l'indicatore su cui si apre il confronto per il rinnovo dei contratti di lavoro.